Siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale. Sono state quattro settimane veloci ma molto intense in cui abbiamo incontrato noi candidati di Fratelli d'Italia a categorie di imprese, agricoltori, associazioni e anche semplici cittadini. La prima cosa che mi sento di dire è quello che voglio ringraziare ognuno di loro per il calore con cui ci hanno accolto. C'è nei nostri confronti in questo momento una grossa aspettativa. Del resto veniamo da dieci anni di una gestione della Regione Lazio in cui i problemi che esistevano già dieci anni fa sono rimasti praticamente gli stessi e non si è tentata non una proposta ma neanche c'è stato un tentativo di risolverli. Per cui è chiaro che le aspettative nei nostri confronti sono molto alte. È per questo che io spero che in questo 12 e 13 febbraio i cittadini portino quella loro voglia di riscatto e ci diano la possibilità di arrivare alla Regione Lazio e restituirli quella dignità che è andata persa. Grazie.